10, 9, 8 e chieda di leggermi la penultima Ciao, 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 grazie di essere qui qui, 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 qui come oggi? oggi faccio un video che non facevo da un'infinità di tempo e cioè la challenge, la sfida del video, come lo siete, di chiamare dell'alfabeto ASMR e quindi un trigger per ogni lettera dell'alfabeto ho cercato di cambiare rispetto alle altre volte e spero troveremo ispirazione anche per nuovi suoni ditemi, come al solito, qual è stato il vostro preferito e se volete mettete mi piace al video cominciamo subitissimo perché abbiamo inventato un trigger ok il primo, quello con la A ho scelto la parola, l'oggetto adesivi qui con me ho un po' di adesivi che si mettono di solito sulle agende e volevo un po' staccarli con voi magari metterli sul microfono adesso sperimentiamo quindi sperimenteremo un pochino io ho anche questo di sifone grosso per la fine allora a me piacevano questi qui perché non sono né troppo grossi né troppo piccoli sono anche semi motivazionali quindi andiamo a prenderne uno per ogni frase e e Sì il primo è don't worry be happy il solito no? un po' scontatino eccolo qua il secondo dice living my past life e lamentiamo su questo microfono faccio vedere living my past life il terzo è già migliore focus on my goal eccolo qua e andiamo ad attaccarlo un po' si sente? abbiamo un bel keep going keep growing ci può stare ci può stare? good vibes only un po' scontatello un po' scontatello abbiamo un make it simple abbiamo un make it simple che 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 adesso adesso l'adesivo più grande adesso l'adesivo più grande che io che 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 ok che che è iniziato? questo primo trigger sicuramente era molto particolare, ma volevo un pochino cambiare, no? il secondo trigger è barattolo barattolo, b b b di barattolino abbiamo un bel barattolino questa è una mini size troppo carina composta spostare non No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vediamo se una è esatta Bene, non ne è zecata nessuno Vi direi che ci fermiamo all'ottavo Va comunque benissimo Non ti preoccupare Per la F ammetto Sono stata un pochino scontata invece Perché abbiamo le forbici Ma a me piace tanto questo suono 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 A, B, C, D, E, F, G Ce l'ho in mano perché l'ho appena tagliozzato E si tratta di un Giornale A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G Adesso lo sfogliamo velocemente Ma cambiando in guardatura Ma cambiando in guardatura Quindi, G, come giornale? A che onestamente Non mi ricordo che caspita ho messo Quindi ci vado a guardare Ah, ok Allora È una parola in inglese Ma si usa anche in italiano Ed è un aggetto che io uso quotidianamente E si tratta del Hard disk Questo oggettino Se create contenuti Deve essere vostro Io prendevo sempre la memoria da Tot giga Ma Da quando sono passata La memoria da un tera O addirittura due tera Tre tera Cambia la storia E questo è piccolino Portatele comodissimo È della Sandisk E io mi giuro molto bene C'è il secondo che compro Non so bene che suoni posso ricavarci Non so bene che suoni posso ricavarci Non volevo solo saltare la H Ho Lo Tutto E Lo 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 Ok, basta, è tristissimo Mi cosa dici in te? La marca in sovrappressione Cioè in sovra Soprallivo In rilievo, aiuto Dove danno basso rilievo Ok Con la i Con la i Con la i Ho pensato alla parola ipnosi 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 Mi tolgo la collana E ve la faccio seguire un pochino L'altro po' sono stupendo Ok Ok Adesso questa parola non è lunghissima Quindi Però Questo è il pendente E cerca di seguirlo Cerca di seguire il pendente Con gli occhi Destra Destra-sinistra 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 E va sempre più lento Sempre più lento Sempre più lento Continua A seguirlo Lo sto seguendo Anche io Un pochino più veloce Ok Se riesco a seguirlo io riuscirai sicuramente a seguirlo anche te Adesso Farò un countdown Segui il ciondolo Fino alla fine Del conto alla rovescia Ok Ok Venti Diciannove Diciannove Diciotto Diciasette Sedici Quindici Quattordici Tredici Tredici Dodici Undici Dieci Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Zero Molto molto bene Molto molto bene Me la vado a rimettere Me la vado a rimettere Eccola qui Eccola qui Ditemi se vorreste questo suono anche in un altro video A me piace molto Che sono degli ricchini Ok A B C D E F G H I L L L L L L L L Vediamo se mi ricordo Ah sì L'ho appena visto Libro L Libro 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 Ho scelto la parola libro Perché su Instagram Nelle storie Vi sto facendo vedere appunto Che sto leggendo questo libro Di Joel Dicker Che è un autore Di Charlie E si chiama Il caso di Alaska Sanders Se mi vede diciamo la Il terzo libro Ehm Un terzo capitolo Che segue La verità del caso di Herkebert E il libro dei Baltimore Soprattutto il primo è molto famoso come libro E Visto che quando l'ho mostrato Mi è stato chiesto di Mostrarla in un video Parlarla in un video Ho pensato che questa sarebbe stata una buona occasione Quindi Me ne parlo Me lo sboglio Senza farvi spoiler Quindi Abbiamo detto che è un giallo Sono quasi alla fine E La frase che descrive Questo libro In fondo è Un caso Non è mai chiuso Non è mai veramente chiuso Quindi Ve ne volevo appunto Parlare Farvi sentire un po' il suo Delle pagine Eccetera Allora Allora sono a pagina 538 Adesso come lo sono detto E che ce l'ho registrato Posso togliere il segnalismo Perfissare il segnalismo Perfissare il segnalismo Perfissare il segnalismo Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Allora, vi racconto di cosa parla brevemente senza fare spoiler. È una saga, anche se i tre libri possono essere letti anche in ordine sparso, cioè volendo più o meno ci capite comunque, però sarebbe meglio leggerli nell'ordine che vi ho detto. Quindi inizio dal caso di Eric Bird. Questo giallo parla di una ragazza chiamata Alaska Sanders. Ed è ambientato in due tempi diversi, in due anni diversi, 11 anni prima del presente e il presente. 11 anni prima c'è stato appunto il terreno e 11 anni dopo si va a riaprire il caso. Per questo c'è scritto, il caso non è mai veramente chiuso. Il protagonista è questo Marcus Goldman, che è uno scrittore molto famoso, che è diventato appunto famoso, diciamo che è un... C'è lo scrittore, questo scrittore famoso è diventato famoso per lo stesso libro, quindi la verità sui casi di Elie Caperda, con cui il protagonista, lo scrittore protagonista è diventato famoso. Mi sembra, sì, comunque. E appunto c'è questo scrittore che aiuta anche un investigatore a riaprire il caso, e lui appunto si impigge un po' negli affari della polizia, indaga quel tipo di scrittore, no? Sono molto in sospeso, sono quasi 600 pagine, che scorrono molto in fretta, e molto piacevoli, non è troppo difficile, è un giallo che comunque non è che non ti fa dormire, però quando arrivi a un certo punto, non puoi più smettere, e lui comotore mi piace molto. Se volete vi lascio il link del libro giù in descrizione, e anche degli altri due. Ed è appunto il libro che sto leggendo ultimamente. Io adoro questo topping. Bene, L come libro, spero che vi sia piaciuto, e spero anche che vi interessi come suggerimento, negli caso. Io adoro i gialli, sono il mio termine preferito. L, M, 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 M. Per me, movimento, movimenti, in particolare, hand movements, quindi, movimenti delle mani. E vado un pochino a mettere, ok, il grand angolo in più possibile. E vado a fare questi movimenti, lenti, con le mani che io adoro. Quindi cerca semplicemente, di seguire, il movimento, delle mie dita, delle mie mani, in questo modo. Che magari vi faranno anche, chiudere gli occhi. In questo video ci saranno altri visual trigger. Però se chiudi gli occhi, ti attoramenti, puoi sempre tornare e finire di vederlo. Non c'è problema. Quindi, questi video sono fatti opposto, per essere visti anche in tre, quattro volte. Quindi, lasciati andare con questi hand movements. And, warriors, per esempio, movimenti, 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 tele, mani. money come sai io amo 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 i movimenti delle mani sono qualcosa che mi ha sempre piaciuto tutti gli otto anni, nove anni in cui ascolto, in cui ascolto semmai mi sono piaciuti ok molto bene, rimetto un po' lo zoom a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n è una cosa di molto particolare è un qualcosa di molto particolare n, ho deciso di fare negozio di gelatini adesso capirete il perchè prima di cominciare con il piccolo roll play volevo solo ringraziare di cuore macro avrete già sentito il suo nome sicuramente perchè mi ha regalato una cosa come 20 gelatini squishy e li ha presi all'ingrosso li ha presi tipo 50 di quanto alcuni li ha presi per me quindi alcuni me li ha mandati io non so come ringraziarlo e quindi adesso negozio di gelatini ciao prego vieni pure si questo è il famosissimo unico e inimitabile negozio di gelatini squishy li puoi trovare solo, solo qui ok allora ti faccio vedere un pochino la nostra selezione e il suono che fanno così riuscirai a capire quale può fare al meglio quale può essere migliore per te e per il tuo canale no, per il tuo stress allora partiamo ok partiamo da un colore molto amato si sente anche sia dal suono sia dall'odore che sono belli nuovi belli freschi appena fatti abbiamo appunto i gelatini unsurri te li faccio vedere bene e anche ascoltare bene e anche ascoltare bene sono un bel azzurro acceso allegro con tanti pallini colorati colorati sopra sopra il suono è molto croccante e anche in coppia e anche in coppia risulta così qui sopra c'è questa glassa bianca e anche il ripieno è azzurro un altro un altro li metto via un altro pezzo molto amato il gelatino squishy viola e questo questo forse fa un suono ancora più croccante al tatto non si può sentire è un suono molto diverso da quell'azzurro molto a gusti anche questo ha la granella colorata sopra che permette di produrre uno splaneto tapping e la glass ampiata viola all'interno il ripieno viola in coppia non ho il meglio di sé sento che croccantezza che croccantezza che croccantezza che croccantezza non ho il meglio di ne ho altri invece leggermente diversi che fanno un suono anche più delicato e bene dai gusti, mi si può piacere più o meno. Qui abbiamo un altro colore che è il verde. Il verde ha un suono molto più meno plasticoso, meno forte, dato soprattutto dalla granella croccante che c'è in superficie, sempre di questo verde accesissimo, bellissimo. Il ripieno è verde. E quando usati insieme, questo suono strabitoso. Quindi qui abbiamo appunto i gelapini al pistacchio. Senta anche l'odore del gruppo di pistacchio. Questi come vediamo sono molto diversi. Hanno la granella al posto, la granella più fatta a pietrine, a pezzettini, piuttosto che a pallini, invece che a pallini. Molto interessante, anche questo un po' più particolare. Ultimi due modelli che ti faccio vedere. E questi mi sono rimasti solo un pezzo, solo uno. Sempre con la granella, non a pallini. Abbiamo uno rosso alla fragola e un nero al cioccolato. Questo rosso è molto fluo, al limite del rosso o arancione, veramente affascinante. E questo invece è cioccolato a cocco. Anche questi insieme. Sono molto interessanti. Quindi è una tua decisione se prenderli tutti uguali o prenderne magari due diversi. Uno rosso e uno verde. Uno verde e uno cioccolato. Magari di questi me ne arrivano altri, però per ora è così. Anche i ripieni sono diversi. E questi hanno il meglio appunto insieme. Separati hanno dei suoni molto delicati. Quindi dimmi quali ti interessano di più. Facciamo proprio un mix. D'accordo. Allora, uno fragola e uno pistacchio. Certo, ti faccio sentire come suonano insieme. Che belli insieme. Bellissima combo. Molto bella. Ok, e poi un'azzurro e una viola. Perfetto. Non c'è assolutamente problema. Un'azzurro e una viola. Molto più croccanti questi. Ok. Quindi. Questi quattro. Benissimo. Allora, uno e cinquanta. Uno e cinquanta. Tre. Tre. Sei. Nove. Dovici. Fazziamo lo sconto. Dieci. Ok. Bene. Grazie. E grazie a lei. E buona creazione di contenuti con questi gelatini stupendi. Ciao, ciao. Allora, questo video sta venendo lunghissimo perché in certe cose mi fa zuppo prendere la mano. Ed è nera. Negozia di gelatini. A, B, C, D, E, F, G, A, G, I, L, M, N, O. O. Me lo ricordo. Occhiali. Occhiali perché io amo fare questo tapping. Questi sono, scusate, il regresso. Sono occhiali anti-luce blu. Quindi che utilizzo quando lavoro davanti al cellulare o davanti al computer. E devo dire, devo ammettere, che non ho più così tanto mal di testa dopo ore e ore e ore passate davanti allo schermo. Quindi sono molto soddisfatta. E sono molto carini. Quindi vediamo se riesco a provvedere. Sarà il regresso, no? E vi lascio anche di questi, se volete, il link affiliato in descrizione. E li trovo molto validi. Ovviamente hanno montato un po' del cavolo, non è graduato, ma è solo appunto per proteggersi dal mal di testa. Io non so cosa sia questo rumore di dubbio. Non lo so, non lo so, questa casa vita propria. Non lo so, questo rumore di dubbio. Non lo so, questo rumore di dubbio. Ok. Come sentite, sono un pochino plasticosa, perché proprio sono leggeri, leggeri. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P. P, 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 P. Non mi ricordo. P, 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 P. Non ho idea. Se ve lo avevo portato sul canale Avevo fatto in una live Leva turno spagli Mai, mai, mai Avevo fatto in una live Avevo fatto in una live Avevo fatto in una live Ok, ok, ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono sicuri che ve lo ripropongo? Assomiglia un pochino al cactus. Adoro. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, B, Q. Sono sicuri che guardarmi intorno per ricordarmi. Quindi ti farò 5 domande a cui puoi scegliere se vuoi di rispondermi. E quindi ti chiedo, ti chiedo, ti chiedo, qual è stato il gioco più bello della tua infanzia? La seconda domanda che ti voglio fare è qual è invece il tuo piatto preferito e perché? Terza domanda, terza domanda, terza domanda, quale sarebbe la tua meta di viaggio ideale, la tua meta di viaggio dei sogni? Quarta domanda, dimmi 5 nomi che ti piacciono particolarmente. Ultima domanda, dimmi un sogno, un desiderio che hai che vorresti che si avverasse subito? Non un sogno che vorresti che si avverasse fra dieci anni, non un sogno che vorresti che fosse già avverato ora? Ok, allora, se ti chiedi che cosa ho scarabocchiato, lo so che ve lo chiedete sempre. Ecco qua, no, non scrivo veramente quel caso. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R. R, 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 R. R, 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 R. R, 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 R e R emozione dei pensieri. In particolare vorrei fare appunto proprio la parte di rimozione, quindi, scusa prendo 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 breath on breath on zack zack scratch 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 e soffia via ok, l'emozione di pensieri fatto con successo a, b, g, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, b, q, r, s con la s è molto semplice abbiamo questo sacchettino di plastica sacchettino di cotone con la città in non 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 per quanto semplice io adoro questo suono per quanto semplice 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 Questa è fondente, ben sopra, sono al 70 Quanto è lì brillante? Questa è un trucco che sarà apposta per cambiare Ok, te lo tengo un altro secondo, mano vince tutto nella mia bocca quindi per oggi ho già avuto la mia dose quotidiana quindi purtroppo non posso mandarmelo tutto Ti adoro Ok, ultimo trigger Io adoro il suono del tapping sul cioccolato, spero davvero vi sia piaciuto E adesso A, B, C, D, E, F, G, A, L, M, N, O, P, U, L, S, D, U, V E con la V abbiamo un ruolo di tamburi Visione per i varicoli Questa me la chiedete, me la chiedete e non so quanto Io continuerò comunque a ripetervi che per ogni trigger visivo che faccio su questo canale, ne faccio tanto Voi per renderlo visione periferica dovete semplicemente spostare lo sguardo in uno dei lati della videocamera quindi potete creare il trigger della visione periferica quando vorrete Cioè semplicemente avendo davanti un visual trigger che sia un brushing camera, che sia hand movements e spostando lo sguardo di lato Io in casa Guido i pennelli E adesso ti chiedo di Portare lo sguardo al pennello Molto bene, molto bene E adesso segui il pennello Segui, 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 fuori dallo schermo Rimani qui, con lo sguardo, ok? Rimani con lo sguardo, rimani, rimani lì, rimani lì E adesso goditi questo brushing camera fatto con, visto con la tua visione periferica Io adoro qualcosa del trigger E ogni tanto appunto anche io ho sposto lo sguardo E mi dà tantissimi prevedini Ok Adesso ti chiedo di sempre riportare l'attenzione a questo pennello Adesso ti chiedo di sempre riportare l'attenzione a questo pennello Ok Adesso hai lo sguardo qui, ok? Adesso hai lo sguardo qui, ok? Segui il pennello di nuovo E rimani con lo sguardo qui Mi raccomando E adesso facciamo un brushing camera con questo pennello, ok? Un po' diverso Faccio movimenti diversi Per stimolare appunto la tua visione periferica Ok Movimenti un po' più veloci Molto bene, molto bene Molto bene, molto bene Ok Ecco fatto Spero che anche questo trigger della visuale periferica ti sia piaciuto Ultimo trigger Dimmi se sei arrivato qui alla fine perché mi sembra un mezzo miracolo Per l'ultima volta A B G G G G A G E con la Z Ho deciso di fare il suono della Zip 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 e la termica so che alcune persone non sono molto fonda della zip ma altre la amano e la 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 il secondo capo con la zippa sono questi pantaloncini il secondo capo con la zippa è il secondo capo Boh, non lo so, non so valutarlo Ok, allora, siamo arrivati alla fine di questa avventura Non so quanto sarà lungo il video, ma spero onestamente più di un'ora e mezza Perché siamo a circa quasi tre ore di girato Quindi spero anche un'ora e mezza di relax per voi Io vi ringrazio di essere arrivati fin qui, se ci siete arrivati E io penso proprio, penso proprio, penso proprio, penso proprio Ma penso proprio, 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 proprio Sia da giù E io penso, 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 penso augurare ad una buona buonanotte sognitor sognitor good, good, good night sweet, good dreams buenos, buenos noches sognitor buon nuit buon nuit buon nuit good night good night le canoeste le canoeste le canoeste le canoeste buonanotte miei piccoli pasticcini al pistacchio un bacione che li spera che li spera buon nuit buon nuit buon nuit